Ben buon poveriggio e ben ritrovate amici e amiche al nostro podcast A Tu per Te. Oggi portiamo una tematica che secondo noi è molto interessante anche dovuto a un nostro pensiero che era stato dedicato alla giornata della memoria che però con il nostro ospite di oggi Gabriele Segre abbiamo diciamo cambiato un pochino quella che era la nostra idea originale ecco Gabriele ci parlerà nello specifico di identità, identità nel suo concetto più ampio nel suo concetto più generale e diciamo che siamo molto interessati al fatto della sua sia storia ma che anche al suo lavoro dato che lui è direttore della fondazione Vittorio Dan Segre al quale subito chiediamo un attimino di spiegarci che cosa fanno e soprattutto anche di presentare il nostro ospite ecco Buonasera a tutti Buonasera Eccoci qua allora volentieri e grazie dell'invito e parto subito da raccontare il lavoro che noi facciamo io sono Gabriele Segre il direttore della Vittorio Dan Segre Foundation come detto da Fabio e il lavoro che noi facciamo e la missione per cui è nata la fondazione è quello di promuovere la cultura della convivenza tra identità diverse noi ci mettiamo nella condizione di provare a rispondere a una domanda generale che è applicabile probabilmente a tutti i livelli a tutte le specifiche contestualizzazioni delle relazioni umane è possibile convivere tra individui, tra gruppi diversi è possibile creare un ambiente di convivenza senza dover rinunciare senza dover mettere da parte senza dover limitare l'espressione della propria identità storicamente la convivenza e l'identità sono state e l'accelerazione e l'espressione dell'identità sono state due binari che mai sono riusciti veramente a riconciliarsi o bisognava mettere a nudo e mettere da parte le proprie identità al fine della convivenza oppure bisognava mettere l'identità in conflitto per celebrarle e esaltarle così rompendo e eliminando le possibilità della convivenza ecco noi ci chiediamo e torniamo alla questione a livello generale se è possibile invece salvare capre cavoli possiamo convivere senza dover limitare o abbandonare le nostre identità grazie mille Gabriele per questa tua introduzione quello che però non ho voluto anticipare neanche nella nostra presentazione è stato quello che al momento stiamo vivendo in un contesto sociale e geopolitico veramente tanto complesso un po' per la pandemia, un po' per i nuovi conflitti che stanno nascendo negli ultimi tempi soprattutto tra grosse nazioni, tra stati e anche nei vari microinventi che poi chiaramente viviamo tutti i giorni tu hai parlato di educare alla condivisione e alla identità io vorrei capire anche quali sono queste metodologie per educare le persone come possiamo fare? allora è importante quello che tu dici quando parli di educazione infatti e tengo a sottolineare quello che ho detto prima noi ci proponiamo di promuovere la cultura della convivenza non ci proponiamo di promuovere la convivenza di per sé quella la lasciamo ai politici, la lasciamo ai diplomatici e lasciamo loro fallire nel tentativo di creare i presupposti per la convivenza quello che noi ci proponiamo di fare è quello di guardare alla complessità delle relazioni umane e anche e soprattutto la complessità della natura delle identità le identità vengono spesso, troppo spesso travisate nel loro significato intendiamo semplificare un concetto complesso come le identità immaginandole come statiche, permanenti, probabilmente anche innate quando invece le identità di per sé hanno almeno tre caratteristiche comuni a tutte le identità sono molteplici, ognuno di noi è portatore di più di identità io sono italiano ma sono anche israeliano ho un'identità religiosa, ho una disabilità che è un pezzo della mia identità sono uomo, sono caucasico, sono elettorio sessuale, sono liberale sono un intellettuale o un'attività di attivismo politico posso andare avanti tutta la notte a raccontare le centinaia di identità che mi definiscono e questo è vero per tutti, ognuno di noi non è una monade ognuno di noi ha in sé molteplici identità e queste identità soprattutto sono cangianti, cambiano nel tempo e nello spazio non è sempre, non rimangono da medesime statiche nel tempo oggi io sono più giovane, tra qualche anno sarò meno giovane adesso sono qua con voi e ho un'identità da professionista, intellettuale più tardi uscirò a prendermi una virgola con gli amici avrò un'altra identità, quando sono con i miei genitori ho una terza identità e via dicendo cambiano in base al tempo e allo spazio e infine le identità non sono necessariamente innate ma sono, noi le definiamo performative ovvero hanno sempre a che vedere con una scelta, una scelta propria oppure una scelta che viene imposta dagli altri su di noi non è sempre detto che sia una nostra scelta l'identità ma l'identità è comunque un riconoscimento e passa attraverso un riconoscimento mio o dell'altro rispetto a quelle che sono l'identità che io performo e le identità sono un costrutto sociale allora fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire questo pezzo dell'identità fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire la natura complessa di ciò che intendiamo per l'identità è difficile che creeremo una comprensione della realtà complessa della relazione tra l'identità che porti alla convivenza quindi per noi educare, dunque rispondendo la tua domanda e lavorare innanzitutto sulla comprensione della molteplicità dell'identità e poi lavorare anche, se è ancora un istante lavorare anche sulla questione per cui le identità storicamente si sono messe in relazione o attraverso il conflitto, quindi attraverso la polarizzazione noi abbiamo un'identità, voi avete un'altra identità, siamo diversi e quindi per affermare la dignità della mia identità io devo necessariamente mettermi in competizione quella tua e quella competizione spesso e volentieri diventa anche violenta, diventa conflitto quindi io ho l'identità storica in conflitto oppure per evitare il conflitto diciamo per superare il conflitto dobbiamo superare l'identità ma anche questo non è un discorso che porta necessariamente alla convivenza perché anche se noi ci preoccupiamo e proviamo a immaginarci una società fatta appiattita su identità generali, comuni a tutti quello che poi succede è che le identità latenti rimangono nel sottosuolo e prima o poi riemergono come un bubone, come un vulcano impazzito ed è impossibile poi convogliare le energie nella direzione della convivenza allora quello che noi diciamo è che le identità non devono essere messe in conflitto non devono essere messe da parte ma devono essere celebrate e la celebrazione e il prendersi cura dell'identità non è fino a se stessa la celebrazione dell'identità passa attraverso l'idea che ogni identità nella sua specificità, nella sua unicità ha una sua dignità e quindi quella dignità va celebrata allora attraverso la celebrazione della dignità della mia identità io sono in grado di essere più consapevole più, come posso dire, più solido nell'espressione della mia identità così che poi sono in grado di riconoscere in questa solidità in questa consapevolezza che questo è valido per me ma è valido anche per te è valido per Anna, è valido per tutti quelli che esprimono l'identità in un rapporto di reciprocità e tra tutte le identità che noi non abbiamo in comune ce n'è certamente una che abbiamo in comune che non è necessariamente la più importante o decisamente non è l'unica che il nostro essere è parte del genere umano però è importante riconoscere il fatto che non è l'unica identità e non è la più importante perché altrimenti diciamo ah siamo tutti umani e tutto il resto non conto noi siamo umani e siamo tante altre cose assieme quindi dignità, reciprocità e umanesimo creano quello che noi chiamiamo i pilastri della cultura della convivenza e la cultura della convivenza nell'insegnamento della cultura della convivenza è fondamentale capire che non esiste una ricetta per la convivenza non esiste un modo per fare convivenza esiste, esiste uno dei principi e dei valori che sono quelli che ho appena finito di descrivere nella complessità della natura e dell'identità alla dignità, reciprocità e umanesimo che sono applicabili a tutti i contesti ma che vanno declinati a seconda delle sfide specifiche che ogni contesto pone alla convivenza quindi educare alla convivenza significa educare a questo livello di complessità a questo livello di consapevolezza della natura delle relazioni e mettersi poi nelle condizioni di esperire, capire e declinare queste visioni all'interno delle specifiche sfide che ogni giorno ci prendiamo di fronte guarda mi voglio collegare subito al tuo ultimo argomento quello che hai parlato di valori perché in un tuo recente intervento che ho avuto piacere di seguire hai parlato di quelli che sono invece i valori della democrazia quelli che sono i valori della civiltà tra virgolette occidentale e li hai già elencati alcuni ecco io vorrei aggiungere quello del rispetto quello delle relazioni e soprattutto quello della diversità ora la domanda che ti voglio fare è ripercorrere un attimino quello che hai detto tu prima del conflitto vorrei diciamo sottolineare e vorrei anche che tu approfondissi la questione della democrazia ecco dov'è che la democrazia diventa debole dov'è che i valori occidentali i valori democratici diventano deboli contro dei sistemi ad esempio quali sono quelli dell'assolutismo dove questi valori vengono a mancare ma allora noi veniamo da in questo momento da una delle maggiori crisi istituzionali nell'ambiente nell'ambito italiano con quello che abbiamo appena visto accadere con l'elezione del Presidente della Repubblica e ci poniamo tutti i giorni la domanda di qual è lo stato di crisi dei sistemi e delle strutture delle infrastrutture democratiche e di democrazia liberale che abbiamo così faticosamente conquistato e imparato a sviluppare nel tempo ecco uno delle grandi sfide delle democrazie delle democrazie liberali che hanno bisogno certamente di essere rinnovate e quello proprio di ricordarsi che devono essere rinnovate ovvero la democrazia è l'unico sistema politico che vive e continua a essere tale se è in grado di continuamente mettersi in discussione in qualunque tipo di autoritarismo o totalitarismo qualunque tipo di regime basato su un'ideologia definita vive della staticità se tu togli un pezzo del sistema ideologico che supporta l'esistenza di un regime ti cade tutto il castello e quindi non puoi mai mettere in discussione niente questo è ciò che i regimi autoritari e totalitari hanno in comune la democrazia vive esattamente del sistema opposto la capacità della democrazia di essere forte sta nel suo bisogno di costantemente mettersi criticamente in discussione saper affrontare le proprie sfide sapersi modellare rispetto a quelle che sono le sfide moderne in base a come cambia il contesto attorno a questa ecco nel momento in cui la democrazia con i suoi stessi valori smette di essere messa in discussione quando noi abbiamo paura di criticare quando ci mettiamo nella condizione per cui il sistema ha paura di criticare quelli che sono i valori anche quei più fondamentali della democrazia non per sovvertirli ma per comprenderne i limiti per poterli poi evolvere nel superamento nel tentativo di essere sempre passatemi il tempo aggiornati rispetto alle sfide complesse che i sistemi democratici si trovano di fronte nel momento in cui non riusciamo più a fare quello allora guardiamo i valori che abbiamo di nuovo come statici e quindi non sono altri diventano essi stessi universali diventano essi stessi immutabili così come lo erano come lo sono quelli dei sistemi non liberali e non democratici allora non facciamo della democrazia un'ideologia la capacità della democrazia è proprio quella di non essere ideologia ma sapersi costantemente mettere in gioco è vero che tutto questo sta anche cambiando i modi di pensare anche le nostre abitudini quotidiane vorrei farti una domanda più incentrata sulla vita di tutti i giorni sulla vita di noi persone che ogni giorno ci mettiamo un po' a confronto con quelle che sono le sfide che la contemporaneità ci sta facendo affrontare e nello specifico vorrei farti notare come il progresso tecnologico stia sempre entrando nelle nostre vite e che le stia cambiando in qualche modo noi a volte neanche ce ne rendiamo conto e questo cambiamento entra soprattutto nella nostra quotidianità e soprattutto nel nostro lavoro ora quanto è importante è riconoscere l'identità come individuo come persona e non tanto quella dell'identità lavorativa come persona semplicemente come risorsa e come lavoro dov'è che possiamo fare meglio in questo? e questo ha a che fare di nuovo con la comprensione dell'identità a livello statico, immutabile, permeante tutte le fasi tutte le questioni della vita individuale noi non siamo una cosa sola e nel momento in cui il sistema ci pone all'interno di un'identità perché è funzionale al sistema noi assumiamo quell'identità ma non diventiamo quell'identità in tutto e per tutto e non mantenendo quell'identità in maniera statica e immutabile ovvero noi abbiamo un sistema che ha bisogno e si basa, è parlato di progresso tecnologico io parlerei addirittura di progresso tecnico o di destino tecnico del mondo un mondo sempre più produttivo, sempre più attento al bisogno di essere efficiente ed efficace quindi l'uomo diventa una macchina di efficienza ed efficacia all'interno di questo sistema e questo insomma non ho bisogno di più di raccontarlo io ci sono grandi filosofi contemporanei sociologi, artisti e poeti che si sono interrogati sulla questione dell'uomo che diventa un pezzo del sistema tecnico quindi diventa una macchina all'interno del sistema tecnico diventa addirittura omologato parafrasando Pasolini in questo però il punto qual è? il punto è che noi dobbiamo e ha tutto a che fare non solo con il contesto ma con la cultura sottostante il contesto se noi riusciamo a esperire ed esprimere la capacità dell'uomo di essere tante cose assieme senza dimenticarci anche nel tentativo o nel bisogno di essere in parte omologati per la funzione che noi esprimiamo all'interno della società tecnica appunto noi ci ricorderemo e sapremo e sapremo anche come dire vivere e manifestare tanti altri pezzi della nostra identità quindi l'identità e la cultura della convivenza sta proprio nella capacità di mettere l'individuo nella condizione di capire che tra tutta l'identità che ha quella lavorativa è una ma non l'unica Volevo chiederti quando la dignità dell'individuo non viene rispettata sia in microambienti sia in situazioni più complesse che riguardano stati e nazioni si possono scatenare dei veri e propri crimini d'odio secondo te quali sono i campanelli d'allarme? è un'ottima domanda perché dipende di nuovo dipende molto dal contesto non esiste una risposta univoca non è possibile così come non è possibile dare una una ricetta perfetta alla convivenza non è possibile dare una ricetta perfetta alla mancanza di convivenza perché ogni contesto esprime delle specifiche delle specificità tali per cui va interrogato rispetto a quel contesto lì però quello che posso sicuramente dirti è questo il bisogno che noi abbiamo di semplificazione della complessità della realtà ci mette di fronte alla necessità di rendere tutto molto più tutto molto meno profondo tutto molto più superficiale quindi nel momento e l'identità come ho detto prima essendo multilivello essendo molteplici manifestano livelli di profondità diversi nel momento in cui noi ci fermiamo alla comprensione dell'altro in maniera superficiale ovvero soltanto attraverso un livello identitario per esempio e dunque associamo a quel livello identitario un sentimento positivo o negativo che sia noi stiamo riducendo la complessità ad un livello di superficialità tale che per cui può essere molto pericoloso perché guarderemo l'altro non nella sua totalità ma soltanto attraverso le lenti di quella specifica identità allora uno dei campanelli d'allarme è quando noi immaginiamo l'altro soltanto come manifestazione di un'identità e ci dimentichiamo il fatto che l'altro è umano quanto noi nella sua molteplicità nella sua espressione della molteplicità delle sue identità per esempio certo un altro un altro campanello d'allarme è certamente la mancanza scusami finisco solo su questo la mancanza di comunicazione ed educazione su questi temi non è possibile lo che dico sempre è che la cultura della convivenza è un po' come un'igiene mentale esattamente come noi abbiamo l'igiene orale per cui dobbiamo lavarci i denti tutti i giorni e l'igiene mentale della cultura della convivenza così come qualunque altro valore va praticata e va sviluppata quotidianamente costantemente con cura e con frequenza non basta andare così non basta andare dall'igienista ad entrare una volta ogni sei mesi per poi non e poi se poi non ci troviamo i denti per una settimana ci vengono le carie ugualmente nello stesso modo allo stesso modo se noi ci poniamo la questione della convivenza una volta ogni tanto e poi ce ne dimentichiamo e applichiamo sistemi di comprensione di analisi della realtà che ci sta attorno più superficiali difficilmente sapremmo sviluppare la cultura della convivenza quindi questo ha a che fare con la comunicazione e l'educazione e l'igiene mentale di porsi la questione costantemente quando questo manca mettiamo un campanello all'anno certo se posso uscire un po' dagli schemi e farti una domanda personale vorrei chiederti come pensi che la tua identità sia cambiata nel corso del tempo o se senti che sia cambiata forse una domanda un po' che amo tutti i giorni come quella di tutti quanti certo no nel senso che la mia identità che è le mie centinaia di identità sono in costante evoluzione e la domanda probabilmente la risposta che la posso ci posso dare una risposta alla domanda quando io me ne rendo conto perché ovviamente così come tutti noi non sempre mi rendo conto dei cambiamenti della mia della mia identità delle evoluzioni costanti ogni tanto uno perde di vista perde il il senso di quello che sta veramente succedendo in sé figurarsi negli altri e poi si accorge di punto bianco ah cavolo sono diverso rispetto a quello che ero prima beh io sempre come tutti quanti non credo di avere esperienze più o meno speciali degli altri ho le mie esperienze uniche e così come ognuna le proprie e posso dirgli per esempio che io ho come ho detto prima io ho una disabilità e ho sviluppato consapevolezza e considerazione della mia identità disabile non della mia disabilità della mia identità disabile in maniera diversa nel tempo per anni ho negato la mia identità disabile fino a poi a decidere che invece quell'identità stessa erano pezzi di me ed era pieno di dignità tanto quanto gli altri pezzi della mia identità proprio nella sua unicità e questo potrei dire di tutte le altre identità che ho ma potrei facilmente scommettere che è vero per te così come è vero per tutti grazie 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 al nostro ospite e grazie a voi per essere stati con noi ci vediamo alla prossima puntata di A Tu Per Te Podcast grazie mille Gabriele buona serata buona serata grazie a tutti